Oh, oh, Milanino, oh, oh, Milanino, oh, oh, Milanino, oh, oh, Milanino, ma com'è che non parli niente? Ma com'è che non dici niente del video che ho fatto ieri? Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, buon venerdì, oggi venerdì, stasera si ciula, domani si ciula, domenica si ciula. Ma ciuleranno solo quelli che lasciano il like, quelli che non lasciano il like, si faranno delle gran seghine. Quindi se tu stai guardando questo video e non vuoi farti una sega, oppure te la vuoi fare ma vuoi anche ciulare, l'importante è che tu voglia ciulare. Poi dopo se ti vuoi fare anche una sega dopo, vabbè, però tu se vuoi ciulare devi lasciare il like, se no non ciuli. Quindi like, commento, attiva la campanella, condividi un video e poi stasera... Oggi sono a carico, oggi sono a carico, ritorno alla serie A, ritorno alla serie A. Ci siamo capiti, ok. Allora, Milanini, ieri vi ho fatto il video dove vi ho spiegato che avete speso due lire per il terreno. Come mai i vostri youtuber preferiti, i grandi youtuber milanisti, quelli che dicono che parlano del milanismo, che sanno tutto dell'Inter, ma non sanno un cazzo del Milan. E la cosa bella è quella, che loro sanno tutto dell'Inter, ma non sanno un emerito cazzo del Milan. Hai capito? E questa cosa a me fa morire, perché io dico, ma porca droga. Cioè, io dico, ma con tutte le pugnette che avete, che avete i giocatori che fanno quello che gli pare, l'allenatore dice, tu batti rigore e nessuno lo caga, lo battono altri due e perdete pure la partita. Cioè, avete Ibrahimović che è inascoltabile, due dirigenti che sono inguardabili, neanche in prima categoria potrebbero fare il loro lavoro. Cioè, voi siete in uno stato pietoso, però gli youtuber milanisti sanno tutto dell'Inter, ma del Milan non sanno un cazzo. Quindi, milanini o interini, andategli a scrivere, ci parlate del terreno acquistato dal Milan a queste cifre risorie, perché un milione e due per 230 mila metri quadri significa che voi pagate 5 euro a metro quadro. 5 euro a metro quadro neanche in Burundi costa il terreno, costa di più in Burundi il terreno. Hai capito o no? E quindi voi, con Eni e Scaroni, che era il loro nuovo, era il direttore, ok, l'amministratore delegato dell'Eni fino al 2014, era proprio Scaroni, come mai si sono accordati in silenzio ad un prezzo irrisorio senza andare a vedere e a valutare i prezzi che ci sono adesso dei terreni? No, 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 noi dell'Eni, visto che tu Scaroni sei milanista e hai lavorato bene da noi, te lo regaliamo. Un po' di conflitto di interessi c'è, mi pare qui, mi pare proprio di sì, ma ripeto, voi non ne parlate e qui perdete tutta la vostra credibilità. Fanno bene a non venirvi più a vedere neanche i milanisti oppure a insultarvi i milanisti perché non parlate mai del Milan? Quando vi dicono, ma parla un po' del Milan, parla un po' di noi, basta parlare di quelli là, tanto c'è una giustizia che ci dirà se siamo colpevoli o non siamo colpevoli. Voi contate come il cazzo alla vecchia, voi milanini e voi gobbini che tutti i giorni siete lì a parlare, che l'Inter andrà in serie B, che c'ha l'annogno detto questo, che quello ha detto quell'altro. Voi, ve l'ho già detto, vi sveglierete un giorno tutti bagnati, sudati. Oh mio Dio, cosa è successo? Cos'è tutto bagnato? S'è tutto bagnato? C'è un bruciore di culo? C'avrete anche il bruciore di culo perché nel svegliarvi tutti sudati ve l'abbiamo messo anche nel culo e voi non ve ne siete neanche accorti. Pensa un po' che figata. Voi dovete veramente augurarvi che l'Inter venga spedita in serie B o venga penalizzata pesantemente perché se ci fanno una multa o poca roba, io vi tiro tanta di quella merda addosso, ma tanta di quella merda addosso che voi vi mettete a piangere dopo. Ok? Vi tiro tanta di quella merda addosso che poi dopo è dura da togliere tutta quella merda che vi arriva. Quindi vedo però che vi piace continuare, è giusto che continuate. Fate bene, così fate parlare un po' tutti anche, perché è così che funziona su YouTube. È giusto che si funzioni così. Poi arriviamo a noi interisti che c'è adesso la gara a chi c'è il cazzo più lungo. Chi è che ha detto che arrivavano gli arabi? Adesso voi mi dite qui nei commenti chi è il primo YouTuber perché io sono arrivato da un anno e non lo so, onestamente, sono serio. Io non so chi è stato il primo a dire un anno fa, un anno e mezzo fa, che sarebbero arrivati gli arabi perché sembra veramente che gli arabi potrebbero acquistare l'Inter. Cavolo, qua dopo aver fatto questo cavolo di contratto, l'Inter formalizza il proprio impegno verso l'espansione strategica in Arabia Saudita, grazie all'ottenimento della licenza MISA essenziale per ogni azienda straniera che vuole operare a livello commerciale sul territorio arabo. Cioè noi siamo la prima società che ha il permesso per collaborare e operare sul terreno arabo. Quindi noi siamo i numeri uno, in poche parole, e voi siete un cazzo di niente, in poche parole. Cioè il discorso è questo qui. E quindi adesso che c'è stata questa collaborazione inizio a credersi anch'io che potrebbe arrivare un arabo ad acquistarci oppure infilarsi dentro la società, non lo so. Ma all'Inter sappiamo bene che Oktri non vede l'ora di vendere, quindi chissà, chissà. Addirittura dicono che sia già tutto fatto, devono... Io aspetto prima di esultare, però vorrei sapere da voi, da voi interisti, non lo chiedo ai gobminani, chi è stato il primo youtuber a dare questa notizia. Se è stato il biondo con Giuseppe, Giuseppe, l'ha sentita questa storia degli arabi? Giuseppe, Giuseppe ascolta a me, c'ho delle bombe di mercato. Giuseppe, ci arriva Guardiola, ci arriva Guardiola, te lo dico io, le cussi stanno così. Oppure Giuseppe, perché ho visto il video di Bergomi dove dice che Giuseppe è stato il primo a dire questa cosa qui, che già ci credo un po' di più perché Giuseppe è quello che, secondo me, ha più interlassi, più notizie, è quello che si muove meglio, secondo me. Oppure Inter69, che anche lui dice che la notizia l'aveva già data. Quindi è importante sapere perché bisogna fare gli applausi a chi ha dato la notizia prima di tutti. Perché poi, quando sbagliano le notizie, però vi dovete prendere anche la merda. Perché io non faccio mercato, non do le notizie. Però se sbagliate la notizia e poi dopo qualcuno vi percula, non è che ve la dovete prendere. Cercate di fare i bravi. Io vi do i meriti se beccate la notizia, se non beccate la notizia vi perculo. Sappiatelo, sappiatelo. Ma vi perculo col bene, nel senso buono. Non è che vi voglio male. Io su YouTube non voglio male a nessuno, non so mica come quello là di Barcellona. Cioè, io voglio bene a tutti. Poi dopo c'è qualcuno più simpatico, meno simpatico. Vabbè, tanto io mica dovevo mangiare con voi e dormire con voi. Quindi, però, però. E ragazzi, domenica sera Roma-Inter. Vi facciamo un culo così. Romanisti, vi facciamo un culo così. Vi facciamo una faccia così. Non lo so, sarà una bellissima partita però. Intanto domani sera ci mettiamo a guffare i Milanini e i Juventini. Però domenica sera sto pensando se fare la live della partita che ha sempre portato bene o se no non farla e farla live reaction dopo. Visto che le live reaction che faccio non vi piacciono perché sono i video meno visti e quindi siete bastardi perché sono i video anche più elaborati per fare quella cazzo di live reaction, perdo due, tre ore del mio tempo e poi voi non me la cagate pari, allora non le faccio più le live reaction. E invece continuo a farle. E invece continuo a farle perché io non mollo. Io non mollo, prima o poi la mia live reaction vi piacerà e voi la guarderete e lascerete il like come state facendo in questo video. E ora vi saluto perché si torna a lavorare e poi stasera si va a zunare perché io ho messo il like e voi no. Ciao belli!